Il pala del Moro di Avellino potrebbe rivedere la luce. Dopo il distacco della corrente elettrica si va verso la risoluzione. L'assessore Geppino Giacobbe se ne sta interessando in prima persona. Nel giro di due giorni giù di lì tornerà la fornitura elettrica all'interno della struttura di contrata Zoccolari. Impianto che ospita le gare interne della Scandone Avellino, Sandra Bate e Basket Club Irpinia. Quest'ultima è rinviato all'esordio Casalinco contro la Vista Reggio Calabria all'approssimo 2 aprile. La formazione di futsal cittadina dopo la sosta per le nazionali tornerà in campo sabato pomeriggio ore 16 contro la capolista Ital Service Pesaro. Nessun rinvia in vista per la formazione di Marcello Battista. Il gruppo in settimana si è allenato alla pala cardito di Ariano Irpino in attesa di aver risvolti sulla carrer del pala del Mauro. La Scandone invece dopo la gara in esterna contro Cassinò tornerà a calcare i regni del pala del Mauro il prossimo 21 marzo in occasione della gara interna per la seconda fase del campionato di Serie B contro Catanzaro.